Ma veramente? Sì zio Buon day! Benvenuti sul canale più pazzi di tour in Italia Oggi è una bella giornata in cui il di Milano c'è un sole a dir poco splendido Stasera verrà a dormire da me Roberto E ho deciso come il mio solito di fargli uno scherzo Davvero cattivo Secondo me ci rimarrà un sacco male perché io personalmente ci rimarrei di merda Qua praticamente ho un bel sacchetto di Gucci con dentro una scatola Qual è la particolarità di questa scatola di Gucci? Che dentro non c'è niente Ho tolto ciò che c'era dentro e ci metterò questo ananas Ci sta perfetto Provate a immaginare già la scena di lui convintissimo di ricevere un regalo di Gucci Poi in realtà c'è dentro un ananas Non so se vi ricordate ma circa 5 mesi fa ho fatto uno scherzo simile a Samantha per il suo compleanno Beh oggi Roby tocca a te Lasciate già un bel mi piace commentate con hashtag Pettacolo Vi lascio allo scherzo Noi bro Ma adesso cosa hai fatto zio dai fine Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ti imbarazzi? Cosa c'è? Ti ho fatto un regalo posso riprenderti? Mentre te lo do perché voglio registrare la reazione Ti ho fatto un regalo? Ti per il culo No ti ho fatto un regalo Io non sto regalo Tenete la telecamera Mi posso fidare? Sì zio Sicuro? Sì Coprite gli occhi Oh guarda che poi controllo quando avuto un regalo Coprite gli occhi Oh Coprite gli occhi Mi fido di te zio Non ti voglio fare niente giuro Ok Sei fermo? Il fatto è che prendo la telecamera Ok Questo qua è un regalo per Cioè per farmi perdonare per tutti gli scherzi che ti ho fatto fino adesso Coprire gli occhi? Sì Oh occhio Zio piano Ti Ma veramente? Sì zio No vai Cioè ora che non è che ho speso chissà quanto Cioè è di Gucci però Ci sono andato piano No io ti amo Veramente? Non ce l'hai fatto Sì zio Posso aprirlo? Eh no guarda Lascio così Tutto tuo No non ci credo No non ci credo Sì veramente No vabbè non ci posso credere No Cioè pure con la scatolina Non ci credo Non ci credo Ti piace Gucci? Troppo bello No 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 Grande Roby Ti piace? Questa è la nasa di Gucci Sta andando No vabbè io non ti posso vedere Ma no mi fai schifo Ma veramente Sono bastardo Certo mi hai detto Gucci Gucci Beh puoi tenere la scatola se vuoi Ti voglio vedere fra Ci sei cascato di nuovo Zio devi finirla però di cascarci No zio mi fai schifo Ora ti faccio Voglio farmi perdere per tutti gli scherzi che ti ho fatto Te l'ho fatto un altro Non fai schifo Ti piace molto il regalo? No Ma comunque questo qua me lo riprendo comunque Perché è mio No non me l'aspettavo Mi hai fatto rimanere malissimo No dai Non me l'aspettavo zio Lui vuoi bene lo stesso? No ma Come no? Dai la scatola la puoi tenere Tu mi hai fatto Mi hai imparcchettato così bene Tutto convinto che ci fosse qualcosa di buono Mi metto con la caccata gialla No vabbè grazie Prego Grazie Prego zio Lasciate un bel mi piace mi raccomando Commentate con Rabici che esca sempre Hashtag Qualcosa da dire? No non ho niente da dire Niente da dire Perché quando uscirà Prima o poi uscirà Uno scherzo Che Roby Cioè quando uscirà Come? Quando uscirà Uno scherzo Fatto da Roby Dovrà raggiungere al minimo 100.000 like Perché dopo tutti quelli che gli ho fatto io